aspetta aspetta adesso sigaro può buttare bravo quando c'è via quello lì figaro se non riesce a tagliarlo possiamo dirlo la pasta la pasta il filo è lì il filo è lì che sono andata occhio che non ti si incastra no a fase che qui che va sotto posso però esatto e adesso lo tiriamo in giù e metti di qua a fase basta vado un po' di qua vado da sotto bella lì e allora facciamo di qua figa l'utilizzo i passi comodo basta no no lascialo lì ascolta stai lì a far fatica buono c'è solo questo e basta questo qua lì hai messo in mezzo i coglioni no ascolta se magari però ascolta se noi lo tagliamo anche questo questo cade giù è meglio è certo è meglio non so non so se cade guarda che lunghissimo non si muove quello lì lascialo no ma però giù va è un po' giù no non scende è lungo fino là va giù adesso spostolo questo qua ma da solo non riesco che cazzo l'hai sposto da fare di qua c'è il ramo là dici che lo rimetto là e rimettilo lì per consumare la batteria per niente o la tagli tutta o non la tagli se noi questo qui lo tagliamo qui se passi così capito troviamo dai rugga rugga Luca basta a posto mo si di cazzo sono in ghettra basta quello lì ok sta lì adesso cazzo va bene ora va che la urecca figara rongetta liberata non cade giù fermati non cade non cade ma guarda come è grosso non si muove ma neanche ma questo se te tiri via qua no non scende non scende è già a metà vieni di qua guarda dov'è è già a metà sì ma guarda come è lungo non scende non scende no è sceso sei inclinato no si chiude perché questo gli fa un po' d'appoggio vedi che cade questo lo vedo o no sì ma farà 10 cm non va per terra 10 cm non voglio finire fa niente e così questo è è perché non può buuro è è è è è